Ciao Pesic, bentornato. Oggi è martedì, 8 ottobre 2024, e ho delle previsioni speciali solo per te. Sei pronto a scoprire cosa ti riservano le stelle? Oroscopo pesci. Battaglia epocale tra soci? Hai ferri corti con un socio o un collega e ne avete ottime ragioni, luna alta nel cielo e inquadratura a Saturno deluso e Nettuno sonnolento nel vostro segno. Dopo una giornata così nera dalla vostra dolce metà vi aspettereste più comprensione e cucchiaiate di miele sulle vostre ferite. Peccato che sbagli barattolo e sopra ci versi invece del sale, prendendo sorprendentemente le difese del vostro avversario. Poche parole, inutile aggiungere altri argomenti al contenzioso che alzerebbero la temperatura emotiva ancora di qualche grado, sul fuoco piuttosto occorrerebbe gettare acqua. Date retta all'amico magliardo che vi corteggia da sempre, stasera con la scusa di una pizzata tra amici, complice il trigono tra Venere e Marte, andrete a prendervi una boccata d'ossigeno. Obbligo di riflessione sugli eventi passati che dovrebbe generare prudenza e buonsenso. Molti consigli che arrivano da più parti, ma anche nella scelta di quello giusto bisognerà essere prudenti e attenti. Potrebbero esserci noie legali o giudiziarie legate al vostro passato. I single hanno bisogno di un periodo di profonda riflessione sul loro passato e scorgere negli errori commessi le ragioni dei loro insuccessi. Oggi vi sentirete particolarmente stressati e non avrete modo di recuoerare le vostre energie, provate a rilassarvi e a concedervi un pomeriggio lontano dal caos quotidiano. Troppo tempo al computer vi farà perdere la bussola, rischiate di sentirvi depressi e potreste affrontare malvolentieri le vostre giornate. Meglio utilizzare meno il computer. Siete fortunati oggi in amore se siete nati tra le 9 e le 11 del mattino di mercoledi, la luna vi influenzerà positivamente e varrete un fascino irresistibile. Oggi sappiate distinguere le occasioni per un cambiamento della vostra vita e della vostra condizione, occasioni da prendere al volo e che impongono scelte complicate, ma non difficili. Alcuni single dovranno fare i conti con la loro impazienza, ma molti altri dovranno letteralmente pentirsi di non aver approfittato di qualche occasione che pur sia presentata a loro. Matrimonio, pubbliche relazioni e collaborazioni andranno bene o faranno maturare buone prospettive. Benissirno il lavoro. Eccellente il dialogo con collaboratori o superiori. Oggi è possibile che scopriate un segreto che vi turberà e vi imbarazzerà, forse sarebbe meglio non saperlo. Chi crede di poter fare a meno di amici e collegi isolandosi sbaglia due volte, oggi è proprio il giorno di coltivare questi rapporti e di migliorarli. Attenti a quello che vi viene proposto oggi, non firmate niente se non siete estremamente sicuri di ciò che andate firmando. Meglio essere sicuri che non ci siano sorprese o inganni. Una giornata ancora con quasi tutti i pianeti conosciuti dalla vostra parte. Quasi, perché la sia pur vistosa negatività della Luna, dal Sagittario, serve proprio a regolamentare l'assoluta positività delle forze planetarie adesso in gioco, in totale favore celeste per il segno dei pesci. Vanno molto bene il lavoro, Urano, Saturno, Plutone, Marte e tutti i benefici, la famiglia e le amicizie. C'è da combattere e cercare di navigare a vista in ambito sentimentale, la Luna, come si è anticipato, contraria. Luna brillante allo zenith nel punto più alto del cielo, è lei la lampada che vi illumina, indicatrice di percorso. Ogni volta che avete bisogno di un consiglio affidatevi alla sua disponibilità e al suo sorriso generoso e ottimista, saprà guidarvi serenamente verso il successo a cui aspirate. Tre parole per definirla e dipingere i sentimenti che vi animano, pace, altruismo, pensiero positivo. Seguite questa linea e non sbaglierete. Amore ed Eros. L'amico Magliardo, edotto dalle vostre vicende sentimentali, si avvicina con passo di leopardo, appena chiusa una storia non avete voglia di iniziarne un'altra. Ma la carne è debole, e il suo sguardo troppo caliente per non cadere nel tranello. Rapporti più sereni con i suoceri, che di solito consideravate un po' tiranni, provate invece a vederli come genitori o nonni affettuosi e sapienti, cambiando la visuale si cambia anche la direzione delle cose. Vivete l'amore in modo lirico, avvolgente, romantico. La posizione attuale della luna, vi vuole invece insegnare che non si può sempre vivere di romantici sospiri e nutrirsi, simbolicamente, solo di petali di rosa. È necessario costruire il sentimento attraverso l'affiatamento, il venirsi incontro, il comprendersi vicendevolmente. Tutto questo consiste nella lezione che il transito della luna vi sta dando, vi vuole impartire, per farvi naturalmente crescere, migliorare, diventare più vincenti da un punto di vista affettivo. E per far durare le relazioni di coppia. La parte erotica della vostra vita gode, però di un momento di grazia. Marte, Plutone, Urano vi rendono prorompenti. Soprattutto i maschietti del segno. Lavoro e denaro. Hai ferri corti con il capo che promette ma non mantiene, vero, inseguite traguardi ambiziosi, ma quando ci si impegna per davvero le cose girano diversamente. Meglio soli che male accompagnati diceva la nonna e ancora una volta dovete darle ragione. Gruzzoletto al sicuro solo in cassaforte, lontano dalle vostre mani boccate, occhio a non cadere in tentazione. Ottime prospettive professionali si dipingono oggi per voi, specie se siete nel settore delle comunicazioni, della pubblicità e della vendita. Favoriti nati in febbraio. Benessere. Emicrania a fine giornata, troppa tensione, troppe grane da risolvere sul lavoro e i benefici del weekend sono già svaporati. Aiutino dalla menta e dalla lavanda per un massaggio calmante e profumato. Denaro. Qual è la vostra erba portafortuna, secondo gli antichi maghi, astronomi? Ebbene è la mistica e salvifica salvia. Usatela per propiziarvi i favori astrali. Per lei, divario incolmabile tra intuito e ragione, le cose voi le sentite di pancia, ma gli altri non vi ascoltano. Povere Cassandre, destinate a non essere credute. Per lui, investimento azzardato, ma stavolta avete fatto centro, i vostri titoli volano, dovreste candidarvi per un impiego a Wall Street. Colore delle emozioni, tabacco. Barometro dell'umore, piovoso. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6 attività, 5, finanze, 8, benessere, 5. Grazie per aver guardato il video. Buona giornata. Grazie per aver guardato il video.